A prescindere da come avranno passato la notte, insonne per ben 7 studenti su 10, secondo un recente studio, l'esercito degli oltre 520.000 studenti italiani, di cui oltre 11.000 maturandi abruzzesi, 3.297 a Chieti, 3.040 a Pescara, 2.461 all'Aquila e 2.271 a Teramo, questa mattina ha dato il via ai tanto temuti esami di maturità. Oggi è stata la volta della prima prova scritta, quella d'italiano, che quest'anno non contempla più il tradizionale tema di storia. Tra le sette tracce proposte, due di letteratura italiana, Il porto sepolto di Giuseppe Ungaretti e Leonardo Sciascia con un brano tratto dal romanzo Il giorno della civetta, tre temi di tipo argomentativo, uno ispirato a Corrado Stajano e alla sua eredità del Novecento, un brano di Tommaso Montanari sull'uso del futuro e uno dello scrittore Philip Fernbach sull'illusione della conoscenza, e due temi di attualità, uno dedicato al ruolo sociale di Gino Bartali, il campione di ciclismo, nominato giusto tra le nazioni per aver salvato numerosi ebrei, e un altro sul generale dalla chiesa ucciso dalla mafia con la moglie nel 1982. Donatella D'Amico, dirigente scolastico del liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara, questa mattina come li ha visti i suoi studenti? Ma guardi, forse oggi è la giornata in cui li ho visti più tranquilli, tranquilli relativamente perché insomma è sempre un bel appuntamento questo dell'esame di estate. Domani invece sarà la volta della seconda prova su due materie di indirizzo. Tra le novità della maturità di quest'anno c'è l'eliminazione del cosiddetto quizione multidisciplinare e della tesina per l'orale, sostituita con la possibilità di scegliere fra tre buste contenenti alcuni spunti relativi a varie materie, da cui prenderà il via il colloquio. Sul voto finale poi peseranno di più i crediti accumulati durante la carriera scolastica, che avranno un valore massimo di 40 su 100 e non più di 25 come in passato. Manuel, sei il primo studente a uscire dal liceo classico d'annunzio di Pescara. Cosa hai scelto? Io ho scelto il rapporto tra storie e sport. È un test che è molto vicino a quella che è l'esperienza personale, anche perché facendo un antagonistico mi sono trovato subito a mio agio a scrivere. Spero sia andata bene. Senza altro, intanto ti facciamo il nostro in bocca al lupo. Senti, la fatidica notte prima degli esami, come l'hai passata? Ma in tranquillità, ieri ci siamo riuniti noi terzi liceali qui sotto scuola. Abbiamo cantato un po' i soliti riti per esame e poi siamo andati a casa verso le 10 e mezza. Temuto, sognato e a tratti contestato, l'esame di maturità segna il passaggio dalla spensieratizza della gioventù agli impegni di un'età più adulta e consapevole, che inevitabilmente determina un cambiamento importante anche nello stile di vita, riproponendosi spesso come il terribile ricordo della prima vera difficoltà da affrontare in solitudine, facendo affidamento solo sulle proprie forze. Lei l'ha mai sognato? Che poi nei sogni diventa sempre un incubo, ma è un ricordo positivo? Ma sicuramente un po' tutti noi, ogni tanto ricordiamo, ma io dico la verità, penso che lo ricordiamo sempre con tanta malinconia, perché ci ricordiamo dei tempi giovanili, dei periodi belli per tutti.